Mi chiamo Davide, mi sono laureato in architettura a Cesena nel 2011, ora faccio il fotografo e vivo in Val di Fassa, in provincia di Trento. Porto avanti una ricerca fotografica personale, nella quale ho pubblicato due libri, io sono Rummenigge e Fotodiagnostic. Inoltre faccio fotografie su commissione di alberghi, di strutture ricettive legate al turismo, poi tengo corsi di fotografia e laboratori, sia per ragazzi che per adulti. Nel periodo estivo, insieme a mia moglie Michela, mi occupo della direzione artistica, degli eventi e delle attività culturali di due comuni della Val di Fassa, che sono Campitello e Mazzini. Qual è l'aspetto più piacevole del tuo lavoro? La cosa che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente la fotografia in sé, perché è qualcosa di molto fragile, ma allo stesso tempo molto potente. Io a casa, ad esempio, ho una cartolina di Franz D'Antone, del 1895, il primo fotografo delle Dolomiti, che è proprio originario qua della Val di Fassa. È semplicemente un pezzo di carta, di cartoncino, ma a questo oggetto noi attribuiamo un valore affettivo, un valore storico, un valore artistico. Un'altra cosa che mi piace molto del mio lavoro è quella di riuscire a specializzarmi in alcuni ambiti, in alcuni settori, in maniera professionale. Ad esempio, la fotografia di architettura, ma mi sto applicando molto anche sulla stampa oggetto d'inchiostro per quanto riguarda il digitale e la camera oscura per quanto riguarda il bianco e nero analogico. Qual è la cosa che mi piace meno del mio lavoro? Credo che la cosa che mi piace meno è quando ho dei lavori su commissione e non riesco a creare, a realizzare dei prodotti che siano realmente corrispondenti al mio modo di lavorare, al mio modo di pensare. Ci sono sempre delle esigenze economiche o delle richieste particolari del cliente, però io credo che il lavoro su commissione possa essere uno stimolo e un esercizio molto importante. Qual è stato il momento più difficile della mia carriera? Ho faticato molto nel periodo degli anni della formazione perché non avevo trovato ancora in quale ambito, in quale settore mi volevo interessare e quindi ogni stimolo, ogni spunto poteva sembrarmi importante, ma allo stesso tempo volevo capire se era qualcosa che mi corrispondeva fino in fondo. Qual è stato il momento più gratificante della mia carriera? Penso che sia stata la pubblicazione dei libri fotografici perché poter tenere in mano il lavoro di anni rinchiuso in un libro e poterlo presentare alle persone è sicuramente qualcosa di molto piacevole. Per quale motivo vale la pena diventare un architetto? Per me fare architettura è stato qualcosa di fondamentale, ne è valsa sicuramente la pena perché ha tenuto insieme due registri molto diversi tra loro. Un registro tecnico legato alle materie scientifiche, matematica, scienze delle costruzioni e un registro più umanistico legato invece a materie come fotografia, come pittura, come storia. Ho studiato anche cinema, architettura, quindi sicuramente è stato un grande stimolo. Poi la seconda cosa che volevo dire è che mi ha creato proprio un metodo di lavoro perché anche adesso nei progetti fotografici che porto avanti c'è sempre comunque il metodo che ho imparato lì di ricerca, di analisi, di riferimenti e questo magari non entra direttamente nelle fotografie che vado a scattare ma mi crea un immaginario che è fondamentale anche nei momenti in cui sono più in difficoltà e mi porta proprio come guida.